Sorveggio o gelato? Qual è la differenza? C'è qualcuno che sta cercando una differenza No, il mio sorveggio e il mio gelato Chimicamente sono la stessa cosa E poi, diciamo che in un gelato generalmente si usano ingredienti di una qualità un po' più alta c'è più artigianalità, artesanalità non si usa coranti, queste cose, aromas possiamo dire che è un po' questa la differenza ma, quimicamente, sono identiche non muda, assolutamente, nada, ok? Grazie